Quanto è bravo questo Mozart? Questo era Mozart. Wolfgang, Amadeus, Mozart. Ma la mia penitenza! Devo fare una penitenza! Ma perché non ho tre teste io? Sudici o demonio! C'è un sudici o demonio! La mia musica... ...hanno cominciato senza di me. Mozart è magnifico! Magnifico! Bene, la prossima volta che vorrà farmi addestrare un altro dei suoi cani me lo faccia sapere. Addio, Fraulein. Addio, madame. Addio, signore. Dove un po' di noi saremo nemici? 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 Herr Mozart? Sono venuto a commissionarli un lavoro. Che lavoro? Una messa da morte. È musica. Perfetta come mai musica era stata. Se capisce? È la più bella opera mai scritta. Lo so benissimo. Quai fuori scamava? Il tuo progetto hauto stare a me. Non... Grazie a tutti per aver guardato il video.